Sì, abbiamo da fare contro un avversario molto tosto che anche l'ultima partita, anche non giocando brillantemente, ha ottenuto un risultato prestigioso 3-3 contro Leverkusen. È sicuramente un avversario molto quadrato, molto disciplinato, pericoloso in ripartenza, pericoloso su pale ferme. Sappiamo più o meno tanto di avversario, ma alla fine, come ho detto tante volte, l'avversario deve andare in secondo ruolo. È importante ritrovare la Lazio che abbiamo lasciato in ultima partita, soprattutto nei primi 60 minuti, confermare questa prestazione se è possibile ancora migliorare.